salve a tutti sono micweb di nuovo qui con un nuovo tutorial su wordpress oggi vi voglio mostrare un plugin veramente molto 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 interessante ve lo faccio vedere subito il plugin è un plugin per effettuare backup del completo sistema il plugin in questione si chiama updraft plus backup restore ve lo presento qui ho già fatto dei backup sono i settaggi del sistema ulteriori informazioni ma la parte che a noi interessa è proprio questa molto semplice da gestire come funziona questo plugin effettua un completo backup del nostro wordpress qui ho già fatto dei plugins la cosa molto interessante è che si può anche programmare il plugin come vedete ogni settimana ogni due tre ore è anche molto interessante che si può salvare il backup su uno spazio alternativo si può mandare via email dropbox come vedete io ho scelto per comodità ftp ho messo il mio server ftp dove voglio salvare il mio nome utente la password il percorso dove deve essere salvato questo backup verificare se i dati sono giusti faccio un test il test è effettuato perfettamente posso anche mandare farmi mandare un email ogni volta che faccio un backup ma non importa a questo punto eseguo un backup c'è la possibilità di fare ripristino o di clonare o migrare questo vediamo dopo facciamo il backup include il database include tutti i file lo faccio partire taglio un poco questa operazione a seconda del vostro wordpress dura all'incirca 4 5 6 minuti insomma è normale qui a velocità un po raddoppiata terminato il backup come vedete viene segnalizzato che ho effettuato il backup a questo punto la cosa molto interessante è che lo trovo veramente incredibile qui aggiorno se adesso aggiorno ci saranno 33 punti di recap di backup appunto la la cosa molto interessante di questo plugin è che mi permette di ripristinare il mio wordpress su un altro un altro dominio un altro sito se noi vogliamo avere più wordpress installazione su più domini si può utilizzare adesso ve lo faccio vedere questo sito che uso di solito tutorial.micweb.info e qui come vedete un altro dominio amicweb.info qui è un'installazione di wordpress completamente vuota questo è il nuovo template di installazione andiamo qui anche addirittura un'altra lingua in lingua tedesca ma non non ci importa installo sul nuovo wordpress sul wordpress vuoto per intenderci vado a installarmi anche questo plugin un attimo che attendo vado a cercarmi il plugin in questione come vi dicevo appdraft 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 se ecco qui semplicemente appdraft ce ne sono due e noi ci scegliamo appdraft backup und restauration lo installiamo anche su questa nuova installazione di wordpress sono due domini due siti internet completamente diversi al momento dopo l'operazione che effettuerò avremo due siti completamente uguali con due indirizzi internet completamente diversi che senso ha vabbè questo ognuno deve sapere per quanto suo però l'opzione di duplicare clonare salvare il proprio wordpress su un altro dominio senza tanti sbattimenti insomma lo trovo molto qui è ancora in lingua tedesca non è un problema comunque si capisce la cosa più importante è che vado sulle impostazioni sul qui mi scelgo di nuovo il mio spazio ftp aggiungo di nuovo i dati ftp dove ho salvato il backup precedentemente un attimo che ti che digito tutti e i dati del mio spazio ftp dove ho salvato il backup non utente la password non ve la dico l'importante è sempre il percorso il percorso assoluto dove viene salvato questo backup eccolo qui controllo se i dati sono giusti se ottengo una connessione connessione stabilita ok salvo qui l'opzione adesso cosa faccio questo è il wordpress vecchio faccio vedere di nuovo questo è quello nuovo quello vecchio cioè quello che devo che voglio recuperare con tutti gli articoli ve li mostro ecco qui gli articoli insomma wordpress e questo è il wordpress nuova installazione ritorno sul dashboard vado di nuovo sul plugin updraft vado sulle impostazioni generali e vado su ricarica ftp esterno come vedete qui era vuoto adesso mi ha riconosciuto il mio backup che avevo fatto precedentemente qui posso selezionare che cosa voglio ripristinare plugins design uploads anche il database questa operazione è abbastanza veloce secondo la connessione del tipo di spazio che avete come vedete lascio andare a velocità normale ci saranno delle delle informazioni qui mi dice che il sito che voglio recuperare a una versione di wordpress diversa da quello che ho installato e proseguo comunque con il restore eccolo qui dato tutto a buon fine c'è il riepilogo adesso se clicco qui vengo sloggato vengo sloggato e adesso vi faccio vedere guardate guardate il sito miq.info ho gli stessi contenuti di tutorial.miq.info poche parole ho clonato il contenuto del mio blog su un altro sito e guardate qui anche il menu il menu è anche in lingua italiana quindi adesso sono su miq.info guardate la lingua è stata cambiata automaticamente poiché ho fatto un restore dell'altro sito quindi come vi spiegavo prima la lingua non ha senso non ha importanza bene vi ringrazio per l'ascolto ci vediamo alla prossima l'abbiamo l'abbiamo l'abbiamo